a una percentuale di candidati risultati idonei ai concorsi pubblici dello 0,9% superiore a quella delle altre regioni. Il dato si evince dal rapporto annuale del centro studi Formez sulla pubblica amministrazione, un documento dal quale vediamo che dopo la pandemia le selezioni pubbliche in Italia sono ripartite ma mancano i candidati. Il tasso delle posizioni rimaste scoperte è del 16,5% con percentuali molto più alte per determinate categorie. Ma qual è il trend della nostra regione? Lo spiega il presidente del Formez, il centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della pubblica amministrazione. Ci sono più di 5.000 candidati che vengono dalla regione molise tra quelli che hanno partecipato ai concorsi che il Formez ha gestito in questi due anni. Sono candidati bravi perché vincono più della media nazionale. Bonisoli traccia anche l'identikit dei candidati molisani. Sono quasi tutti laureati, hanno un'età media leggermente superiore a quelli magari che vengono da altre regioni. Quindi è una ragione in più se vogliamo per offrire questa opportunità ai giovani laureati molisani sotto i 30 anni. Scendendo più nel dettaglio l'ex ministro ci spiega come i candidati fino ai 30 anni sono un po' meno. Ammontano al 24,8% rispetto al 29,1% nazionale. Mentre i laureati che aspirano ad aggiudicarsi un posto nella pubblica amministrazione sono pari all'84% rispetto all'82% del totale dei candidati. Rispetto al genere i candidati del Molise sono per la maggior parte donne in percentuale maggiore rispetto al totale nazionale. Bonisoli fornisce infine un dato su una delle posizioni più richieste, quello del Ministero della Giustizia per addetti al processo per il distretto della Corte d'Appello di Campobasso. 730 i candidati, 77 gli donne ai molisani per 51 posti.